Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per dirvi che le richieste stanno aumentando giorno dopo giorno, ci stanno contattando da tutta Italia e stiamo cercando collaboratori e persone motivate a collaborare con noi per far fronte e soddisfare le richieste che ci stanno arrivando. Se sei un installatore, manutentore o tecnico o hai una piccola azienda, certificata FGAS, comunque con patentino personale FGAS, contattaci, scrivici per far parte del nostro team. L'indirizzo email è info.sanifiche.it Vi ho bisogno dei vostri dati, nome e cognome, dove operate. Ovviamente il requisito fondamentale dovete essere in regola con la Camera di Commercio, dovete avere i requisiti per fare questo tipo di attività e soprattutto il patentino FGAS, sia personale che aziendale. Io voglio dirvi questo in questo video. Non so nella vostra zona quello che sta succedendo. Noi qui in Lombardia stiamo veramente... non riusciamo a star dietro a tutte le richieste. E in più si aggiungono quelle richieste che prima riuscivamo a gestire, ma adesso stiamo facendo una grande fatica. Quindi se non vuoi perdere questa opportunità, se non vuoi che la concorrenza o il tuo competitor della zona ti spazi via, io ti suggerisco proprio di far parte del nostro team. Avrai tutti gli strumenti per operare, sia sugli impianti dove tu hai già... sia sui tuoi clienti, e sia sui clienti nuovi che noi comunque... che ci contatteranno. Mandate i vostri dati entro l'8 maggio, noi vi ricontatteremo e vi spiegheremo come avverrà l'incontro. Vi anticipo già che l'incontro avverrà online, saremo tutti collegati insieme, e vi spiegherò, oltre farò una breve presentazione della nostra azienda, ma soprattutto entreremo nel dettaglio di come operare e proprio delle procedure. Io vi ringrazio e vi raccomando di non perdere questa possibilità, perché l'Unione fa la forza. Sanify Care, aria sana, per vivere meglio. Ciao!